Il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso del Seregno che chiedeva la riammissione al campionato di Lega Pro, passando quindi dalle attuali 54 squadre a 60. La terza serie nazionale resta così com'è. Una vittoria per la FIGC. Già lunedì Carlo Tavecchio aveva ribadito che il format dell'ex Serie C non sarebbe cambiato. Sconfitto anche il sindacato dei calciatori che al pari del Seregno aveva chiesto l'aumento d'ufficio a 60 club onde evitare parecchi disoccupati. Nessuna violazione insomma. Il comportamento dei vertici federali in tema di ripescaggi è stato corretto. Il campionato può regolarmente partire nel prossimo weekend con i suoi tre gironi da 18 squadre. Una decisione, quella del collegio presieduto dall'ex ministro Frattini, arrivata al termine di una giornata lunghissima. Come prevedibile non c'è stato il tempo per discutere dei ricorsi presentati da Torres e Vigor Lamezia contro la sentenza della Corte federale d'appello che ha spedito le due società in Serie D.